Una battaglia che dura da anni e sembra non aver fine. Prosegue con fermezza la protesta di Adelchi Di Cato, cittadino di Molina Terno, che combatte per la regolamentazione di Via La Chiusa. Un tratto di strada che sta a cuore a Di Cato non solo per un fatto di giustizia, quanto per un legame effettivo. Per far ragionare la politica, aveva detto tempo fa, il cittadino a Onda Tg bisogna lasciarci la pelle. Già nell'agosto scorso Di Cato aveva avviato un digiuno sospeso dopo le assicurazioni avute da tecnici e amministratori comunali del piccolo centro, ma quelle assicurazioni formali non sono seguiti atti amministrativi concreti che potessero risolvere il caso aperto già da anni. L'accordo sarebbe dovuto arrivare con una delibera che non è stata mai fatta. Qualche giorno fa sul caso è intervenuto anche il prefetto dell'Aquila Lecci. In una nota indirizzata al sindaco di Molina Terno, Roberto Fasciani, a Lecci è dichiarato che appare indispensabile espletare attente valutazioni sui profili della questione che non possano formare oggetto di ulteriori difformi interpretazioni. Sono passati cinque giorni, annuncio di Cato, è tutto qui, è come prima. Ho avvisato il medico e le forze dell'ordine, io vado avanti per una questione di diritto e verità.